Sequestro in uno stabile del famigerato Lotto Zero, nota piazza di spaccio del quartiere di Ponticelli. La Guardia di Finanza ha trovato tre pistole e 48 cartucce occultate all'interno di un intercapedine. In particolare i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, mentre percorrevano via Cleopatra, hanno notato un gruppo di soggetti che alla vista delle pattuglie si dileguava in direzioni diverse. L'attenzione dei finanziari si è subito concentrata su due soggetti che accedevano frettolosamente all'interno del vano scala di uno stabile situato nelle vicinanze, disperdendosi. Al termine della prelustrazione del primo piano del palazzo, le fiamme gialle hanno scoperto di un intercapedine semichiusa da una porticina di alluminio degli involcri contenenti tre pistole con matricola brasa, di cui due già complete di caricatore rifornito e colpo in canna e 48 cartucce. Sono in corso accertamenti per individuare i fuggitivi e verificare se le armi siano state usate in fatti di sangue e intimidazioni. Grazie a tutti.